La Supercoppa di Lega prova al Novara che vince il triangolare con Teramo e Salernitana e chiude la stagione alzando il trofeo. Il Teramo si congeda dai propri tifosi con un pareggio che chiude una stagione straordinaria. Vivarini per l'occasione mette in campo i tre tenori d'attacco contemporaneamente, vale a dire Donnarumma, Lapadula e Bucchi. Vedremo chi all'avvio della prossima stagione sarà ancora Biancorosso. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime della prima guerra mondiale a cento anni dall'entrata dell'Italia nella grande guerra, il Novara fa vedere che non è venuto fino a Teramo in gita premio ma vuole riportare il trofeo a casa e le basta un pareggio. Subito Dickman raccoglie un cross di Garofalo e chiama Tonti all'intervento. Poco dopo è la volta di Corazza a provarci ma la mira non è quella giusta. Al ventunesimo della Rocca di Testa tiene Tonti sul chi va là. Il Teramo comincia a mettersi in moto con il trio d'attacco al ventitreesimo. Bella manovra biancorossa che manda al tiro Donnarumma con Montipò che respinge. Ma al Teramo basta poco per accendersi e al trentasettesimo gli uomini di Vivarini passano in vantaggio. Azione perfetta dei tre attaccanti con Donnarumma che serve Bucchi, tacco di quest'ultimo che mette Lapadula in condizioni di segnare. Applausi a scena aperta dei tifosi del Teramo e impresa di segnare quattro gol che non sembra più impossibile. Tanto è vero che Donnarumma ci prova al quarantesimo calciando alto. Ma il Novara non sta a guardare e al quarantatresimo su punizione di Garofalo si accende una mischia nell'area Teramana e prima Tonti e poi Caidi, praticamente sulla linea, devono fare gli straordinari per risolvere la situazione. La partita è piacevole ed equilibrata ma al dodicesimo della ripresa l'episodio che rompe l'equilibrio in campo. Perrotta è costretto all'intervento falloso per fermare Corazza lanciato verso la porta Teramana, punizione e cartellino rosso per il difensore. Il piazzato è calciato da Garofalo che sfiora il pareggio. Al diciottesimo Tonti è costretto all'uscita fino al limite per fermare Vacuo. Il Teramo capisce che deve osare, al ventiquartresimo si rimettono in movimento i gemelli del gol con un duetto d'alta scuola che manda la conclusione a Lapadula che non trova però la porta da posizione defilata. Al ventinovesimo Donnarumma capisce che per lui non è serata, davanti a sia una prateria sbaglia il primo controllo, è costretto a rientrare, poi cerca lo stesso la conclusione ma calcia fuori. Il Novara capisce che può fare suo il trofeo e a due palle gol incredibili. La prima con Della Rocca al trentaquattresimo, la seconda con Evacuo al trentanovesimo ma in entrambi i casi la porta è mancata di pochissimo. Ci pensa il capitano Buzzegoli al quarantaduesimo a togliere le castagne dal fuoco con una sassata dal limite che va a insaccarsi dove Tonti non può arrivare. I piemontesi si sentono la coppa tra le mani ma Montiposta per rovinare la festa con un intervento al limite della papera che per poco non regala il nuovo vantaggio al Teramo. Alla fine applausi per tutti, Teramo e Novara si ritroveranno in un campionato che non avrà gironi, quello di Serie B.